Cari amici, care amiche di Passione Podcast, buongiorno, bentrovati e bentrovate. Vi avevo promesso sul canale Telegram qualche giorno fa che avremmo ripreso dopo la pausa estiva con un bel podcasterone. E allora non potevo che mantenere la mia promessa e vi ho portato proprio un bel podcasterone. Vi svelo chi è, anche se lo avrete già letto dal titolo, suppongo, subito dopo la sigla. Eh sì signori, perché chi vi ho portato qua in questo momento è Riccardo Dalferro, in arte Ric du Fer. Riccardo, buongiorno. Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato qui, è veramente un piacere. Grazie mille a te per essere qui, veramente il piacere è tutto nostro. Grazie, grazie, grazie. Allora Riccardo, oggi parliamo un pochino di te, ti chiederemo di raccontarci la tua esperienza da youtuber barra podcaster. Noi siamo amanti dei podcast e quindi siamo più interessati a questa seconda parte. Prima di cominciare a raccontarci però della tua esperienza, vorrei capire un attimo chi sei. Così lo raccontiamo anche agli ascoltatori e agli spettatori. Dunque, Riccardo Dalferro, in arte Ric du Fer, hai due podcast, non diciamo altro perché ne parliamo meglio dopo. Nasci come youtuber online, perlomeno, sei un filosofo divulgatore. Ho dimenticato qualcosa? Ma in realtà la domanda chi sei è quella che attanaglia da sempre qualsiasi filosofo e quindi rispondere a questa domanda è praticamente impossibile. Però diciamo che hai dato un sunto abbastanza efficace. Sì, ho avviato il mio progetto di divulgazione sul web proprio tramite YouTube ormai tre anni e mezzo fa. E ultimamente, in realtà no, è qualche mese, quasi un anno, però ultimamente mi sono dato anche al podcasting. Chi sono? Io sono un vicentino di 31 anni che da sempre coltiva la passione per la letteratura, la filosofia, la creatività, la scrittura. E di lavoro io insegno scrittura creativa, quindi diciamo così, il mio lavoro io ho fondato una scuola qui in provincia di Vicenza dove insegno agli altri come si raccontano storie. E il mio progetto di divulgazione è nato nel momento in cui una persona a me vicina mi ha detto ma perché non porti le tue lezioni anche sul web? E io allora, lavorando di sera e di pomeriggio, avevo le mattinate abbastanza libere e quindi ho detto ma sì, provo a dedicare la mattinata più che altro a imparare come si fanno video. E quindi mi sono messo a legare con lo scotch il mio smartphone a una lampada orribile da cucina e ho cominciato a registrare i miei primi video che sono tuttora sul canale. Ogni volta in cui li vedo prendo paura. E nel frattempo ho cominciato veramente a imparare, a imparare tante cose su questo mondo della divulgazione via web che a oggi è la mia attività principale. Quindi questo è. E cerco di avvicinare persone alla filosofia, cerco di spingerle ad approfondire, a leggere libri ma soprattutto a porsi domande che altrimenti magari non si porrebbero in autonomia. Grazie allora per questa spiegazione. Tutto quello che ci hai detto quindi serve ad evitare che tu dica che sei un filosofo che è una cosa complicatissima da spiegare suppongo perché la domanda che mi viene spontanea è che cos'è un filosofo? Fammi capire un attimo. È un'altra domanda da un milione di non so neanche in che valuta perché ovviamente è una domanda che ci si porta dietro fin dalla notte dei tempi quindi non bastano neanche i dollari e gli euro per questa domanda. Allora chi è un filosofo? Diciamo che ci sono tantissime possibili risposte a questa domanda perché nella vulgata maggiormente diffusa il filosofo è colui che insegna filosofia all'università, nelle accademie però ovviamente questo è molto riduttivo perché tantissimi filosofi nel passato non facevano parte dell'ambito accademico. Io credo che il filosofo sia chi vive con la filosofia quindi chi fa della filosofia la principale attività non voglio dire l'attività lavorativa perché tanti filosofi in passato lo erano senza guadagnarci dalla filosofia però chi dedica la maggior parte del suo tempo alla filosofia questa è per me la definizione e al tempo stesso chi viene riconosciuto come filosofo dagli altri filosofi quindi diciamo così chi viene visto da coloro che sono definiti filosofi in quanto tale quindi è una definizione molto molto complicata che ovviamente già quello che ho detto farà incazzare tantissima gente sappilo tantissimi che vogliono definire il filosofo in altri modi cominceranno a dire no non è vero non è così va bene bene facciamolo incazzare va bene così e secondo questa definizione quindi sei un filosofo a tutti gli effetti ma oddio teniamo conto di una cosa io quando ho cominciato questo progetto di divulgazione mi definivo filosofo anche in maniera provocatoria perché effettivamente voglio dire non avevo pubblicazione alle spalle non c'era non c'erano veri motivi se non il fatto che io nella mia scuola insegnavo anche filosofia però attualmente le cose sono diverse perché ho pubblicato un libro di filosofia che è stato recensito letto da filosofi oltre a questo ho due riviste di filosofia di cui una io sono direttore di due riviste di filosofia di cui una è dell'università di Trieste quindi sono direttore di una rivista accademica universitaria di filosofia quindi attualmente ci sono molti più indizi a riguardo però poi mi piace sempre dire una cosa che quando Hegel si definì per la prima volta filosofo non era perché gli altri l'avano riconosciuto come tale perché il filosofo in qualche modo finisce sempre per autodefinirsi tale e poi mano a mano arrivano anche gli imprimatur degli altri che però arrivano sempre in un secondo momento ok beh hai scelto un paragone leggero io ancora non ho intervistato Hegel purtroppo ma siamo organizzati ci vediamo su Skype a brevissimo è una bella seduta spiritica ma di quelle pesanti tra l'altro non sarebbe male allora iniziamo a buttarci a pesce Rick nei tuoi progetti online perché vogliamo cercare di rubarti più arte possibile rispetto al tuo progetto vogliamo cercare di imitarti vogliamo fregarti proprio tutte le cose che tu sai fare meglio per cui cerchiamo di capirle allora dico bene se dico che tu parti online come youtuber giusto? sì sì assolutamente prima c'erano stati alcuni progetti su Twitter ho fatto dei progetti di divulgazione culturale attraverso Twitter ma erano cose che erano solo il preludio di quello che poi ci sarebbe stato quindi sì sì YouTube è stato il primo momento perlomeno di successo ecco che cos'era questo progetto su Twitter? di che si tratta? è ancora vivo? beh sì in parte è ancora vivo si trattava di un progetto denominato Twitteratura che era un progetto di cui ho fatto parte insieme alla fondazione Cesare Pavese e si trattava di usare Twitter come mezzo per la divulgazione di opere letterarie importanti ci sono stati progetti come il progetto di riportare in auge le città invisibili di Calvino fondamentalmente ogni giorno veniva scelto un capitolo di queste città invisibili e attraverso la creazione di hashtag si invitava gli utenti a twittare a riguardo di quel capitolo e creando una sorta di opera espansa perché c'era il libro di Calvino e a fianco tutte quante la miriade di tweet di contributi musicali, testuali, immagini è stato un bel progetto un bel progetto che ancora oggi funziona perché la fondazione Cesare Pavese lo porta avanti quindi sì è stato il primo momento in cui ho usato il web in maniera culturale e quanto lanciare un progetto anche se poi magari non è quello che sfonda tu adesso ne hai parlato un po' al passato perché se ho capito bene o non te ne occupi più direttamente o comunque non lo consideri il tuo progetto principale ma mi chiedo quanto buttarsi in dei progetti che siano online, che siano offline poi ti è di aiuto nel realizzare invece il progetto quello vero, quello grosso, quello della tua vita come nel tuo caso tutto il tuo progetto di comunicazione quanto ti ha insegnato quel progetto? Allora premetto che il progetto non l'avevo lanciato io ma sono stato tirato dentro diciamo così quindi questo e ho contribuito a questo progetto per circa un paio d'anni sicuramente è stato il primo momento in cui mi sono reso conto di cosa significava produrre contenuto per un pubblico ecco questo è stato sicuramente ciò che ho portato con me e mi sono accorto di quanto in realtà l'immagine che io allora nutrivo del web che anche per me in quel momento era il luogo di cazzeggio in cui ti diverti, vedi video stupidi chiacchieri e flirty con la gente in messaggi privati diciamo così in realtà questa immagine fosse estremamente riduttiva perché mi sono accorto di quanta gente là fuori vorrebbe utilizzare il web come mezzo per imparare cose quindi questo è stato sicuramente è stata una miccia che mi ha permesso di guardare a internet in una maniera completamente diversa in secondo luogo mi ha permesso di imparare la necessità di mettere sempre in discussione l'idea che hai del tuo pubblico perché anche lì riuscivi a entrare in contatto con qualsiasi tipo di persona da quella che era veramente presa da questo progetto e quindi voleva metterci anima e corpo a quello che casualmente entrava in contatto e non gli interessava tanto e magari voleva anche prendere in giro il progetto quindi contribuire però in maniera quasi distruttiva che in realtà tu potevi mutare in un punto di forza quindi sicuramente ogni qualvolta io ho avuto centinaia di progettini piccoli tantissimi falliti altri invece che hanno cambiato direzione e io credo che da ognuno di questi piccoli progettini sia riuscito a portarmi dietro qualcosa perché alla fine quando fai un progetto avendo sempre bene in mente che su cento che metti in piedi sono cinque quelli che poi veramente porti avanti non puoi permetterti di scartare gli altri 95 come se fossero tempo perso devi importi di trarre profitto da ognuno di questi progetti altrimenti sei votato a veder fallire anche gli altri cinque che magari porti avanti per un po' di tempo questa cosa qua è interessante quindi su cento progetti che hai portato avanti ovviamente è un numero immaginario è una proporzione esatto 95 sono falliti quanto è importante però che questi 95 siano falliti? è importante l'errore per te nella tua esperienza di divulgatore? beh non si fa non si porta davanti i progetti di successo senza sbagliare tantissimo io ho fatto un sacco di errori ma ancora oggi ne faccio tantissimi ancora oggi non è che perché oggi ho una community di 60.000 persone allora dico vabbè sai cosa va bene così e porto avanti solo le cose che funzionano no negli ultimi due anni ho aperto altri 7-8 progetti collaterali a quello che faccio so perfettamente che una buona parte di queste cose che ho aperto poi non le porterò avanti per i prossimi 10 anni ma so sono consapevole il fatto che devo osservare anche questo devo dedicare il tempo perché il modo con cui quelle cose falliranno mi darà uno carburante intellettuale per portare avanti tutti gli altri che funzionano e due mi permetterà di evitare di reiterare gli stessi errori che hanno portato al fallimento quindi è fondamentale se uno oggi vuole aprire un progetto soprattutto di libera professione nell'ambito così vasto aperto e completamente imprevedibile del web deve assolutamente avere la capacità di sopportare gli errori e i fallimenti e il coraggio di guardarli bene in faccia per capire come sono fatti Fantastico probabilmente poi ti chiederò qualcosina su questi fallimenti ma giusto per una perversione che vogliamo portare avanti visto che parleremo adesso dei tuoi successi se ci avanzi un po' di tempo parleremo anche dei fallimenti perché io li trovo interessantissimi e molto molto utili istruttivi anche per gli altri credo che gli errori siano fecondi non solo per noi ma anche per chi ci osserva però adesso veramente perché se no gli ascoltatori si arrabbiano giustamente andiamo ai successi partiamo da YouTube quando è nato il tuo canale YouTube? Allora il canale è nato nel dicembre 2014 nei primi sei mesi ho cazzeggiato o perlomeno non è che abbia cazzeggiato ho fatto una rubrica abbastanza seria che era una rubrica in cui parlavo di scrittura creativa quindi parlavo di quello che facevo la sera ai miei corsi nella mia scuola quindi parlavo della letteratura davo esercizi da fare e ho cominciato a capire un po' più che altro ho utilizzato quella rubrica per sperimentare il mezzo ecco quello era un po' sono tutti video da 4-5 minuti adesso se non sbaglio ne ho lasciati soltanto 2 o 3 visibili sul canale perché erano veramente di fattura brutti proprio da guardare se uno va a guardare i primi video del mio canale prende paura questo è anche nella realtà o solo nella tua testa di ultra perfezionista? no ancora di più nella realtà no no nel senso io anzi sono molto molto sono molto buono nei confronti di quei video dovrebbero mettermi in galera per quei video scherzi a parte quella è stata una rubrica che ho utilizzato veramente per sperimentare infatti era un argomento che conoscevo molto bene in maniera da potermi concentrare non tanto sui contenuti ma sulla forma quindi su come si registra un video su come mettere le luci su come aggiustare l'audio su come fare il montaggio eccetera 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 quindi i primi sei mesi sono stati di pura sperimentazione il canale ha cominciato a funzionare diciamo così quindi con le rubriche continuative e a parlare di filosofia perché poi su richiesta di molti utenti ho cominciato a parlare di filosofia ha cominciato effettivamente a funzionare nell'aprile maggio 2015 quindi sei mesi dopo l'apertura da lì il canale ha cominciato ad avere un successo assolutamente inaspettato anche perché io non utilizzavo YouTube nel tentativo di far diventare molto visti nei contenuti cioè non era quello l'obiettivo l'obiettivo era quello di capire come produrre video quindi il successo è arrivato e da lì è stato tutto un incredibile scalata soprattutto il primo anno e mezzo non mi sono quasi neanche reso conto di quello che è successo nel primo anno e mezzo ma la mia professionalità si è espansa in una maniera incredibile al punto che un anno e mezzo dopo io nel frattempo ho imparato cosa significava fare dei bei video nel senso quindi mettere bene le luci riuscire a fare un montaggio adeguato riuscire ad adattare alla situazione alla location al momento al messaggio il tipo di forma che volevo conferire al video tanto che un anno e mezzo dopo come dicevo ho cominciato a essere chiamato da aziende per consulenza nell'ambito del videomaking quando io non sono assolutamente un videomaker cioè sì videomaker ma non uno che abbia studiato quelle cose lì quindi YouTube ha avuto per me un effetto incredibile prima ancora che il successo diciamo così quantitativo delle persone che mi seguivano o delle views come si dice soprattutto la possibilità di espandere la mia professionalità e di migliorarmi in quello che faccio anche al di fuori di YouTube perché poi una delle cose che ribadirò sempre io oltre che insegnare e fare lezioni e conferenze ho fatto dieci anni di teatro faccio tuttora spettacoli teatrali ora sono solo monologhi perché non ho il tempo di lavorare con compagnie però YouTube mi ha migliorato anche in quello cioè mi ha dato una consapevolezza nel modo con cui porsi, parlare, esprimersi che prima non avevo quindi è stato veramente fenomenale l'esperienza di YouTube cavoli almeno due spunti mi vengono in mente il primo è che tu hai quindi usato lo strumento YouTube oppure potremmo dire lo strumento divulgazione perché credo che valga anche successivamente per il podcast soprattutto nei primi sei mesi ma da quello che ho capito ancora oggi con l'obiettivo primario, secondario, parallelo di imparare cioè di migliorare te stesso questa cosa è interessante perché tu per i primi sei mesi quindi quello che tu definisci aver cazzeggiato di fatto tu invece di leggerti libri di seguirti corsi su Udemy di andare a vederti tutorial su YouTube cose che immagino tu abbia fatto comunque ma nel frattempo avevi le tue belle mannine sporche le mettevi in pasta e stavi facendo delle cose questo qua immagino che ti abbia permesso di imparare molto di più e molto più velocemente e anche meglio rispetto a uno che fa soltanto teoria guarda assolutamente io questa cosa la ripeto sempre anche ai giovani divulgatori che oggi mi contattano e mi dicono eh sai vorrei fare questo io dico sempre una cosa devi lanciarti devi cominciare a fare e sbattere la faccia fare un sacco di video orribili scrivere un sacco di articoli che la gente ti stroncherà e produrre contenuti per farti dire dalla gente là fuori guarda che questa cosa non va bene per questi motivi e puoi migliorarti così così e così io credo che un progetto di divulgazione di qualsiasi tipo non possa prescindere dalla necessità inesausta di imparare cioè il divulgatore deve imparare sempre deve imparare prima di tutto una cosa deve imparare a come trasmettere i suoi contenuti in una maniera diversa rispetto al modo con cui li ha appresi io questa cosa la dirò sempre la cattiva divulgazione è quella in cui io mi convinco di poter trasmettere i contenuti nello stesso modo con cui li ho appresi quindi qualcuno mi li ha insegnati in quel modo sicuramente io riuscirò a trasmetterli usando lo stesso modo non è così tu devi reimparare da zero quando fai divulgazione il che non significa come tanti dicono fare marketing a parte che non c'è nulla di male nel fare marketing della filosofia della scienza ma significa guardare alle tue idee ai tuoi contenuti a quello che vuoi dire da molteplici punti di vista e quei punti di vista quali sono è quelli del tuo pubblico il tuo pubblico è fatto di centinaia di tipi diversi tu dovresti idealmente riuscire a comunicare ad ognuno di quei tipi in una maniera diversa è impossibile perché tu sei tu e divulghi in un modo ma devi tendere a quello quindi sì io ancora oggi podcast youtube ma anche i miei articoli di riviste io ogni volta in cui produco un contenuto mi pongo il primo obiettivo il primo obiettivo di venire fuori da quel video articolo podcast sapendone qualcosa in più rispetto a prima se non avessi questo diventerei una statuetta di cera inutile incredibile quindi mi vuoi dire in qualche modo che anche io che sto facendo un podcast perché non so fare podcast è il motivo per cui ho deciso di fare un podcast che un giorno sarò bello bravo e famoso come te cancellerò i miei primi episodi e tutti si saranno dimenticati di questo sfigato impacciato che si vergogna che non sa guardare la telecamera dimmi che così è ma no ma guarda che in realtà allora intanto no bello bello come me è impossibile no mi dispiace ma non per demerito tu ma per merito mio ovviamente no in realtà una cosa divertente è che io ogni qual volta vado a fare tenere conferenze o seminari in cui parlo di youtube io di solito proietto sempre pubblicamente il mio primo video che poi io vi consiglio consiglio anche te vattelo a riguardare tanto basta cercare per cronologia su youtube ecco e prendi paura veramente ma per tutto per il modo di esprimermi per il modo in cui sono abbigliato per il modo in cui in cui parlo in cui sono messe le luci terrificante però per me è fondamentale tenere memoria del luogo da dove sono partito e poi guardarmi gli ultimi video e vedere il percorso che è stato fatto nel frattempo è una cosa veramente importantissima e mi dà sempre tanto uno perché faccio tanto ridere le persone quando succede e due perché perché mi ricordo che quello che sto facendo oggi comunque migliorerà ecco io credo di aver imparato questo dal mio progetto che qualsiasi cosa fai qualsiasi cosa fai puoi anche considerarla perfetta la cosa più bella che hai fatto ma puoi sempre guardarla e dire però posso fare di meglio e da lì migliorare qualcosa per la volta dopo incredibile senti ma quanto tempo ci vuole per iniziare a vedere i risultati di un progetto online quanta pazienza quanta costanza servono beh allora tieni conto di una cosa io sono un veloce apprendista quindi nel senso io mi sono guardato tanti tutorial nel mentre in cui facevo i video e per esempio ho imparato a utilizzare premier in maniera molto veloce che è il software che utilizzo tuttora per fare i montaggi e sono molto veloce a utilizzarlo perché ho ottimizzato i tempi per fare i montaggi sulla base di quello che ho bisogno di cui ho bisogno io quindi tutto quello che dirò va rapportato a questa mia caratteristica io imparo in maniera molto veloce quindi tenete conto di questa cosa primo seconda cosa devi capire anche quelli sono gli obiettivi perché ovviamente se io ho degli obiettivi enormi è anche facile che nel mezzo del percorso io mi perda e invece devo pormi degli obiettivi sempre abbastanza diciamo così raggiungibili io per esempio uno degli obiettivi che mi ero posto durante quando inizia a fare divulgazione era quello di fondare una rivista online in cui dare spazio non solo a un'eventuale redazione che c'è è composta di sette persone e che diciamo così lavora continuativamente sui contenuti ma anche una rivista in cui le persone che sono al di fuori di quella redazione possano contribuire la rivista è nata è nata all'inizio di quest'anno e si chiama Filosofarso Good e ci sono voluti quasi tre anni per arrivarci quello era uno degli obiettivi massimi che mi ero posto quindi avere sufficiente visibilità da poter far sfruttare quella visibilità anche a persone che magari non potevano accedere a quel numero di lettori questo però l'ho raggiunto semplicemente perché nel mentre mi sono fatto un sacco di feedback checking cioè nel senso mi sono creato costantemente dei momenti in cui valutare criticamente il mio progetto e capire se quello che faceva quello che facevo stava effettivamente riuscendo che è una cosa che vedo mancare a moltissimi produttori di contenuti sul web che magari vanno avanti per anni a fare contenuti senza però magari avendo un obiettivo molto distante senza però farsi i checking i checkpoint ogni 4-6 mesi per guardare se il progetto è cresciuto se la risposta del pubblico è migliorata se i lettori sono aumentati tutti quelli che possono essere dei criteri di valutazione di autovalutazione quindi dare delle tempistiche è veramente impossibile per questo fatto perché tutto deve rapportare anche agli obiettivi che uno si dà io il consiglio che posso dare è questo se volete che un progetto cresca datevi dei feedback checking ogni pochi mesi ogni 4 mesi devo prendere e onestamente nei confronti di me stesso guardare quello che sta funzionando o meno qual è il grande pericolo il grande pericolo è fare qualcosa che mi piace molto che però non sta funzionando che quindi sta in qualche modo frustrandomi anche ma non avere il coraggio di ammetterlo perché mi piace farlo e quindi lo porto avanti ancora così la tentazione ce l'ho avuta tantissime volte faccio un esempio concreto io i primi video che facevo come ho detto mettevo il cellulare avevo un Galaxy Note 2 e registravo con la fotocamera anteriore roba veramente da sputnik allora e registravo con la fotocamera anteriore quindi da 1,3 megapixel con una luce gialla orribile che dovevo mettere a posto in post produzione io come li facevo questi video mettevo il cellulare e registravo facevo un discorso filato che a volte durava 20 minuti a volte durava 50 minuti ma cioè veramente ci sono video che se andate a guardare ci sono io che per 45 minuti parlo di un argomento di filosofia ora mi piaceva tanto questa cosa mi piaceva mi divertivo tantissimo perché facevo un sacco di digressioni quello che avevo preventivato poi non era effettivamente il video effettivo perché all'interno ci mettevo dentro un sacco di collegamenti che non avevo programmato e quindi mi divertivo c'era però qualche utente che mi diceva timidamente guarda sono belli i video interessanti però perché non provare un po' il montaggio qualche luce in più e io mi ripetevo ma cosa vuoi alla gente interessano i contenuti di quello che dico non interessa tanto il montaggio le luce eccetera eccetera però a un certo punto una persona che si occupa di video making e di cui ho grande stima mi fa guarda che se tu fai una scommessa e provi a migliorare i tuoi video visto che fai i video e non fai testi scritti e vanno bene i contenuti ma è comunque un prodotto video che va visto se provi a migliorarlo un po' con questi modi vedrai che cambia tutto io ho detto vabbè proviamoci ho acquistato un set di luci che ho trovato in grandissimo sconto e mi sono scaricato il programma premiere e ho detto proviamo ho cominciato a fare il montaggio e mettere le luci come si doveva all'inizio ero molto diffidente perché mi raccontavo la storia che in realtà la gente voleva quel tipo di contenuti e non altro soltanto perché mi riusciva più comodo farli così e invece mi sono accorto che mi ero sbagliato immensamente perché dal momento in cui ho cominciato a fare un montaggio che desse ritmo ai discorsi e a mettere delle luci che permettessero anche al video di essere carino da vedere soltanto un particolare la gente ha cominciato a leggere i testi a leggere i titoli dei libri alle mie spalle ok e questa cosa ha cambiato tantissimo la gente ha cominciato a commentare sotto dicendo ah ma quel libro l'ho letto anch'io ma quel libro quel libro quel libro questa cosa per esempio non l'avevo prevista ecco la mia comodità nel fare i video prima aveva rischiato senza fare un serio onesto fact checking dei miei contenuti aveva rischiato di farmi perdere l'opportunità di fare dei video belli e da quando ho cominciato a fare dei video belli perlomeno più ritmati più funzionali il mio progetto ha cominciato a decollare veramente ha cominciato a crescere enormemente e lì ho capito una cosa ho capito che quella cosa quel controllo di qualità mettiamo l'autocontrollo di qualità avrei dovuto farlo una volta ogni tot mesi per migliorare un po' una volta ho migliorato l'audio l'altra volta ho migliorato piccoli aspetti che hanno fatto tutto l'effetto del mondo perché poi ripeto se fai video i video devono essere anche belli da vedere non soltanto da ascoltare altrimenti altrimenti fai podcast ok allora tanto per cominciare Rick mi stai facendo fare una figuraccia perché io sono esattamente quello che eri tu qualche anno fa cioè io sto dicendo esattamente le stesse cose e lo sto dicendo con una grandissima convinzione per cui in questo momento hai appena smentito una cosa come gli ultimi 4-5 episodi di Passione Podcast per cui ti ringrazio per averli distrutti non vedo l'ora di essere bello come te per poterli cancellare così almeno ce li dimentichiamo e lasciamo perdere quello che abbiamo fatto fino adesso detto questo sono curioso di sapere quanto tempo ti richiede il montaggio di un video proprio per mia curiosità personale visto che sei veloce ma allora prendo alcuni esempi se faccio un video che poi nel prodotto finale diciamo così dura circa 20 minuti la produzione del video mi prende di solito diciamo che se un video il prodotto finale è 20 minuti io ho circa 40 minuti di registrato di solito quindi io di solito vengo fuori con il doppio di registrato un po' meno 35 minuti di registrato su 20 minuti di video finale e quel tipo di montaggio mi porta via una quarantina di minuti circa quindi il montaggio perché poi voglio dire il montaggio di miei video io non mettendo particolari immagini effetti il montaggio del mio video è semplicemente tagliare e poi mettere a posto gli zoom non è che ci sia tanto altro più aggiungere una musica l'eventuale sigla eccetera eccetera quindi circa un 40 minuti tutto il montaggio e poi ci sono video in cui ci sono più tagli perché magari il video è molto complesso e quindi durante la registrazione devo pronunciare delle stringhe di parlato più brevi e quindi essendoci più tagli ci metto di più altri invece in cui ci sono stringhe di parlato di un minuto e mezzo due minuti di fila in cui i tagli sono molto meno e quindi ci metto di meno però in linea di massima una quarantina di minuti per un video che ne dura 20 grazie allora direi molto molto interessante fino adesso ma ora ci buttiamo sulla tua seconda vita diciamo quella più recente la tua seconda attività a un certo punto così di punto in bianco almeno dall'esterno tu hai deciso boh ciao faccio un podcast perché no allora ti chiedo intanto anzi intanto ti dico che c'è una cosa che qui in Passione Podcast abbiamo capito la so io la sanno gli ascoltatori e le ascoltatrici ed è una verità ovvero che il podcast è lo youtube dei brutti cioè è l'unico motivo per cui una persona può scegliere di fare un podcast invece di youtube è brutto punto non c'è niente da fare allora mi chiedo hai raggiunto questa consapevolezza ed è questo il motivo per cui hai scelto di fare un podcast oppure ci sono delle altre motivazioni che ti hanno spinto a farlo no no sono altre le motivazioni e finora voglio dire altrimenti avrei perso tutto il pubblico facendo i video invece no quella cosa lì fortunatamente me la sono messa da parte però mi piace come definizione il podcast è lo youtube dei brutti sì prima di rispondermi sul podcast scusami che mi è venuta in mente questa cosa ma nella divulgazione lascia perdere youtube podcast facebook qualsiasi altra cosa quanto conta l'immagine inteso proprio come presenza fisica cioè la bellezza estetica il fatto che tu sia un bel ragazzo è stato un aiuto oppure un parametro che non conta assolutamente nulla ma allora guarda io ti propongo la stessa cosa però da un punto di vista diverso lascia stare la bellezza o la bruttezza ci sono alcuni vlogger che sono inguardabili che però fanno numeri assurdi quindi nel senso però non faccio citazioni perché sennò poi vengono a cercarmi sotto casa no a parte gli scherzi più che la bellezza o la bruttezza è il un filosofo ne ho parlato anche nel primo episodio di di daily cogito c'è un filosofo levinas che ha coniato il termine di viseità cioè il volto del vlogger è fondamentale per il consenso che porta con sé perché noi siamo creature estremamente visive e la viseità che ci troviamo ad affrontare su youtube porta con sé inevitabilmente un pregiudizio che ci porta a valutare quello che viene detto in maniera positiva o negativa ben prima che comprendiamo il significato di quello che viene detto io sono assolutamente convinto che moltissima gente che per esempio mi ha insultato mi insulta nel presente o me l'ha fatto in passato non l'ha fatto perché perché io quello che dicevo creava loro di senso o fastidio così come sono convinto che moltissimi che mi seguono non mi seguono e non mi apprezzano tanto per quello che dico cioè poi sì lo spero bene ma perché il rapporto che hanno col mio volto causa in loro un certo effetto questa cosa qua è fondamentale da capire e come poi avrò modo di argomentare questo è uno dei motivi principali per cui ho aperto il podcast per non porre allo spettatore quel filtro fortissimo lì il volto è un filtro incredibile di cui fa parte l'espressione del volto l'espressione facciale il modo lo sguardo il modo che si ha di muovere la bocca il carisma che traspare sono tutti elementi che sono dittatoriali per la nostra capacità di valutare un contenuto quindi indipendentemente dal fatto che siamo belli o brutti migliorare la nostra capacità di esprimerci attraverso il nostro volto attraverso il nostro modo di muoverci il linguaggio non verbale diciamo così per usare un termine tecnico è fondamentale quando si vuole mandare un messaggio assolutamente sì avere consapevolezza questa è una delle prime cose che ti insegnano a teatro avere consapevolezza del modo con cui gli altri percepiscono la tua espressività è uno dei tratti fondamentali della capacità di trasmettere un messaggio di far sentire allo spettatore l'emozione che gli vuoi trasmettere questo lo fai principalmente attraverso il volto perché è la prima cosa che incontriamo e poi lo fai con la voce e poi lo fai con la gestualità e poi lo fai col significato delle parole wow allora dai passiamo alla voce quindi allora escluso scongiurato il fatto che tu ti ritenga uno youtuber brutto hai aperto un podcast per quale motivo allora ho aperto un podcast per tanti motivi cerco di riassumere i più importanti quanto tempo fa? il primo episodio è di inizio dicembre 2017 ok quasi un anno dai si si è quasi un anno quasi un anno allora filosofar su good oltretutto per chi lo volesse andare a cercare poi vabbè mettiamo tutto nelle note dell'episodio comunque il primo podcast che hai lanciato si chiama filosofar su good esattamente allora motivo più superficiale motivo più superficiale è che tantissime persone mi dicevano che ascoltavano i miei video e ascoltando i miei video magari si scaricavano l'audio e se lo ascoltavano in macchina quindi era molto tempo che alcuni mi dicevano ma perché non crei un podcast con l'audio dei tuoi video questa cosa mi è sempre creato molto fastidio perché non credo sia una cosa buona da fare perché io credo che il video sia fatto per essere visto e quello che dici in un video sia fatto per essere legato a ciò che mostri e quindi il video è video e audio è un'altra cosa quindi non volevo trasferire gli audio dei miei video in un podcast non l'ho mai voluto fare per questo motivo quindi ho detto era molto tempo che dicevo quasi quasi crea una rubrica che non mi porti via troppo tempo in cui pubblico degli aggiornamenti degli approfondimenti di quello che già avviene su youtube ma in podcast ho sempre rimandata questa idea e poi è avvenuta una cosa cioè è avvenuto che mi sono sempre più accorto di quella cosa che dicevo prima che il mio volto nel mio canale era protagonista e dittatoriale cosa che portava inevitabilmente una buona porzione del pubblico ad ascoltarmi più per simpatia o non ascoltarmi per antipatia che non per la valutazione di quello che dicevo qual è la soluzione a questo tipo di problema ovviamente il testo scritto il testo scritto è la forma di comunicazione più tra virgolette poi non è così però impersonale perlomeno da cui è tolto quell'elemento di simpatia però i testi scritti su internet vanno sempre peggio c'è sempre più difficoltà e io ne pubblico tanti ma comunque sono la parte minoritaria della mia pubblicazione quindi mi sono detto beh cos'è che sta a metà strada fra la mia faccia e la mia penna la mia voce e quindi ho cominciato a studiarmi podcast di varie persone che fanno podcasting soprattutto devo ammetterlo soprattutto stranieri perché ancora non ero entrato nel mondo del podcasting quindi ne conoscevo veramente pochi e mi sono innamorato di questo mondo e ho sentito quanta potenzialità espressiva c'era dietro un podcast così mi sono detto sai cosa io credo che non dovendo metterci la faccia nel podcast potrei persino creare dei contenuti ancora più approfonditi rispetto ai video cosa voglio dire con questo voglio dire che in un video è difficilissimo fare un approfondimento complicato perché perché youtube è molto distraente il video occupa molti campi sensoriali intanto ah beh principalmente due campi sensoriali la vista è eludito però la vista in una maniera un po' particolare non è che quello che guarda il video di youtube guarda solo il video no mentre ascolta e guarda il tuo video guarda anche i video correlati i consigliati mentre ascolta un video di solito va a leggersi anche i commenti e mentre tu parli a video questo si mette anche a scrivere commenti risposta ad altri questo avviene molto molto spesso molto più spesso di quanto pensiamo e mi sono accorto che questo causa anche fraintendimenti quando tu cerchi di fare un discorso molto complesso su youtube e mi sono accorto che questa cosa non avviene o avviene in misura molto minore nel podcast perché il podcast è più focalizzato non ti occupa la vista ti occupa solo l'udito sei più portato sei più predisposto a concentrarti esclusivamente su quello che viene detto e quindi ho aperto Filosofarso Good per portare approfondimenti che su youtube non sarei riuscito a portare anche perché sono molto complessi e su youtube farei più fatica perché io su youtube vado anche molto a braccio facendo i discorsi con i discorsi che faccio in Filosofarso Good sarebbe stato molto difficile andare a braccio e quindi ci sono degli script ben delineati con citazioni letture approfondimenti e quindi ho detto provo vediamo se riesco a portare un contenuto più puntuale su argomenti che mi sono state richieste in passato ma che su youtube non riuscirei a mettere quindi questo è stato il motivo principale per cui ho aperto il podcast per approfondire in maniera impossibile su youtube ok quindi non hai fatto dei ragionamenti di tipo di marketing di audience dove mi ascoltano di più dove vendo di più qualsiasi cosa tu abbia da vendere nella tua vita ma semplicemente un ragionamento di stile e di concetto legato al tuo lavoro assolutamente sì anzi ti dirò di più è un investimento di tempo fortissimo perché voglio dire c'è un podcast che si intitola la sindrome dell'eletto in cui parlo del mondo come simulazione parlo di matrix parlo di tante cosette interessanti se avessi prodotto un contenuto del genere su youtube avrebbe fatto il botto solo che per trattarlo come volevo trattarlo cioè in maniera non superficiale sapevo che il podcast sarebbe stato un mezzo molto molto più utile quindi ho sacrificato un sacco di visualizzazioni in realtà cioè il podcast mi ha fatto un quinto un decimo forse delle visualizzazioni che avrebbe fatto il video su youtube però dall'altra parte so che quel decimo di ascolti anzi è qualitativamente molto più alto rispetto a quelli che ne avrebbero offrito su youtube cioè ogni ascolto di un podcast è a mio parere qualitativamente più utile rispetto a 100 visualizzazioni di youtube e questo non lo dico per scarsa stima di youtube lo dico per come siamo fatti ripeto youtube ci distrae di più e una visualizzazione su youtube è di minor qualità rispetto a un ascolto di un podcast e questo l'ho visto anche con l'esperienza di quest'anno insomma ok quindi su youtube c'è quantità dal punto di vista degli ascolti sul podcast hai trovato più qualità esattamente esattamente sì sì questo è ed è un investimento sul lungo periodo come ho detto qualche settimana fa una persona che me l'ha chiesto se io devo rispondere alla domanda ma fra dieci anni su internet come ti vedi tu io mi vedo molto più volentieri con una rubrica di podcast molto seguita che non con un canale youtube molto seguito anche perché poi e qui lo dico e qui lo nego mi diverto molto di più a registrare i podcast cioè devo proprio dirlo mi diverto un sacco come mai perché ti diverte di più perché torno alla radio cioè io ho fatto radio quando abitavo a Padova per un periodo radio universitaria ed è bellissimo giocare con la voce è qualcosa di meraviglioso usare la voce è bellissimo e utilizzare la voce per trasmettere contenuti è bellissimo e la radio ha quel fascino lì e quindi quando ho cominciato a fare podcast mi sono sentito di nuovo catturato in quell'atmosfera è bello mi metto davanti al microfono non c'è nessuno che mi guarda quindi posso anche registrare in pigiama non è un problema e parlo senza fare quella ricostruzione facciale che ti fa apparire così bello esatto esatto esattamente sì no perché altrimenti la gente prenderebbe paura senti come come costruisci un episodio rimaniamo ancora un attimo su filosofar su good poi ci dirai se ci sono delle grosse differenze rispetto al tuo secondo podcast che è uscito da poco da quello che ho capito se ho capito bene forse il filosofar su good rimane il podcast un pochino più strutturato può essere? sì assolutamente sì ok come costruisci un episodio di un podcast come quello? ma guarda fondamentalmente avviene che io scelgo un argomento un argomento molto spesso un argomento che è emerso da discussioni sul canale tempo prima che però ho scelto di non trattare sul canale o per mancanza di tempo o per mancanza di occasione e ci scrivo un articolo perché poi ripeto i miei podcast di filosofar su good sono quasi degli articoli infatti poi a ottobre uscirà l'ebook con tutti i primi la prima stagione di filosofar su good con i testi aggiustati però ci scrivo veramente un articolo un articolo che cerca di trattare almeno da 3-4 punti di vista differenti il problema che si vuole trattare e poi mi metto a non leggerlo perché poi è una reinterpretazione però mi metto a diciamo così decantare l'articolo che ho scritto però c'è una parte fortissima di scrittura è proprio un articolo scritto che poi io reinterpreto leggendolo questo è come strutturo il podcast poi a livello di contenuti quello dipende moltissimo dall'argomento non so ci sono podcast più semplici in cui ho cercato di dare tre definizioni tre tre portare tre idee di a cosa serve la filosofia oggi e quindi lì semplicemente ho scelto tre autori che rispondono a questa domanda e ne parlo ci sono invece podcast come per esempio un podcast in cui ho parlato di una bomber e della crisi del concetto di autoproprietà quella è una una trattazione originale e quindi proprio è un articolo di filosofia da me scritto quindi è un contenuto che non si trova in altri autori e cose del genere e lì ovviamente c'è un lavoro di ricerca dietro c'è un lavoro di approfondimento diverso e c'è comunque la scrittura di un testo che vada per punti ok leggi sempre uno script quindi tu all'interno del tuo podcast non vai a braccio di filosofarso good no ci sono dei momenti in cui vado a braccio cioè ci sono dei momenti in cui proprio ci aggiungo cose perché mi vengono in mente mentre registro di nuovo io quando registro cose lo faccio sempre con l'intento di imparare qualcosa in più e quindi io c'è sempre un toto di improvvisazione sempre in ogni cosa che faccio c'è perché io ho l'indole dell'improvvisatore ho studiato teatro di improvvisazione quindi quella cosa lì ci sarà sempre quindi ci sono delle parti diciamo che su filosofarso good ci sono meno parti improvvisate che non su youtube o in altri luoghi questo sicuramente proprio per la complessità delle cose che vado ad affrontare e a un certo punto non ti è bastato un podcast e hai deciso di farne due come mai hai lanciato un secondo podcast aspetta un po' di storia allora da pochissimi giorni ovvero nel momento in cui registriamo da tre giorni da lunedì di questa settimana è nato Daily Cogito che è il tuo secondo podcast quotidiano in questo caso mentre filosofarso good aveva una cadenza di che tipo? settimanale settimanale che peraltro è ancora attivo perché ho letto da qualche parte che pubblicherai a brevi nuovi episodi sì sì il 23 settembre è parte la seconda stagione sì sì ottimo e a questo è affiancato quindi Daily Cogito dove ogni mattina alle 7 esci fuori con un episodio più o meno breve ho visto che la durata dei primi tre varia dai 20 minuti ai 40 minuti in cui parli di è bella domanda perché questo lo sto scoprendo anch'io in realtà allora io ho aperto Daily Cogito per un motivo principale perché io voglio diventare un virus cioè io voglio finire dappertutto l'unica soluzione a questa io voglio fare come l'agente Smith quindi voglio finire per occupare il Matrix e questo è un motivo hai deciso di farlo con tanti podcast questa cosa con tanti podcast esatto con l'agente Smith che lo faceva con Matrix e acqua passata adesso si fa col podcast la mia voce spunterà dalle fottute pareti come si suol dire in questi casi no allora in realtà Daily Cogito nasce perché voglio sperimentare ulteriormente il mezzo del podcast anche io faccio un po' di storia nel 2017 io tentai una rubrica quotidiana su YouTube si intitolava evento ogni giorno da lunedì al venerdì usciva un video di circa 5-6-7 minuti in cui approfondivo un concetto filosofico l'esperimento è durato 4 mesi e poi sono imploso sono imploso uno perché mi ero accorto che stava diventando una rubrica didattica a me non interessa fare didattica in secondo luogo perché mi stava veramente sfiancando perché fare un video anche se porta via poco tempo anche se però significa mettere le luci aggiustare l'inquadratura porsi nel modo giusto e non è facile quindi mi portava via troppe energie più che troppo tempo e quindi sono imploso e quella rubrica è uno dei fallimenti di cui magari poi approfondiremo quindi ancora una volta in quel caso funzionava ma hai mollato perché eri tu che non riuscivi a reggerla sì 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 funzionava la rubrica anzi quando l'ho smessa tantissime persone mi hanno detto no era bellissima peccato e io ho detto no ragazzi no no perché io sto facendo diventare una routine youtube e non voglio che youtube diventi una routine per me soprattutto voglio che diventi sempre qualcosa che mi piace fare se diventa una routine allora tanto vale che mi metta a fare il commesso alla pam cioè nel senso non ho capito allora a quel punto lì ho abbandonato la rubrica quotidiana però la quotidianità è una cosa che mi è rimasta sempre come pallino ho sempre detto cavolo avere qualcosa che esca ogni giorno di qualità è fondamentale cioè è una cosa veramente importante per un progetto come quello che voglio mettere in campo io appunto perché voglio diventare come l'agente smith allora a quel punto lì il podcast è stata l'occasione giusta perché perché il podcast di Daily Cogito mi permetterà di sperimentare la quotidianità che è fallita con evento però in una maniera diversa sotto due punti di vista uno è un podcast quindi io ogni giorno mi prendo verso sera mi metto il mio bel microfono rode mi siedo alla mia scrivania e parlo parlo per tot adesso sì il primo episodio è durato 23 minuti perché era il primo episodio e quindi l'ho presa un po' lunga il secondo dura 40 minuti perché ogni tanto in Daily Cogito condividerò le conferenze che tengo in giro per l'Italia e quella lì è una conferenza che ho tenuto all'università lo scorso maggio mentre quello già quello di stamattina dura 13 minuti quello di domani giuro che non supererai i 10 minuti spero spero ci proviamo però poi la mia idea è che Daily Cogito a parte le conferenze rimanga sempre fra gli 8 e i 12 minuti come durata quindi prima cosa è semplice da registrare io lì sì vado totalmente a braccio prendo mi metto davanti al microfono e parlo di un argomento o di più argomenti che mi hanno colpito che so che magari ne sono in tendenza e di qui è interessante discutere seconda cosa a differenza di evento non sarà di sola filosofia ci sarà sempre il taglio filosofico perché io quello sono quindi cercherò sempre di dare un aspetto filosofico alla trattazione per esempio nell'episodio di stamattina ho parlato del matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni però in una maniera alternativa dando un taglio filosofico a questo elemento e però non parlando di sola filosofia mi permetterà anche in una giornata in cui veramente ho troppi casini da gestire di fare il podcast rispondendo a un commento che ho ricevuto il giorno prima oppure proponendo una lettura interessante quindi sarà una rubrica molto più aperta e molto più libera rispetto alle altre e questo credo mi permetterà di mantenere la quotidianità oltre al fatto ripeto che mi sono divertito molto a registrare i primi quindi credo che sarà sempre abbastanza divertente però ho voluto aprirla perché questa cosa non l'avrei potuta fare in Filosofarsogood che è una roba è un progetto diverso e quindi hai deciso di lasciare assolutamente separati i due podcast in uno fai una cosa in uno ne fai un'altra eh sì anche perché credo che saranno persone diverse ad ascoltarli sono abbastanza convinto che persone che ascoltano Daily Cogito non si metteranno ad ascoltare Filosofarsogood perché magari sono interessate alle mie opinioni sull'attualità ma non sono così dentro la filosofia da ascoltarsi un pippone di 25 minuti sul concetto di volontà di potenza ehm così come persone molto dentro la filosofia che sono interessate a Filosofarsogood magari se ne fregano della mia opinione su Fedez e Chiara Ferragni giustamente quindi ci sono anche diversi audience eh e poi un diverso stile ripeto qui io vado a braccio quindi faccio un sacco di erroretti faccio un sacco di battute sceme faccio un sacco è anche un modo per far conoscere un Riccardo dal ferro un po' diverso in Filosofarsogood sono serio posato pacato lineare qui invece mi posso anche permettere di fare un po' più di cazzaro perché io nella vita reale sono un po' così cioè nel senso sono un po' cazzaro ok quindi come abbiamo detto anche in passato su Passione Podcast YouTube fa una selezione più algoritmica dei contenuti da proporre alle persone iscritte mentre i podcast sono ancora un pochettino più old school quindi la selezione è un po' più manuale e tu suddividendo i due podcast vuoi aiutare i tuoi ascoltatori in questa selezione per cui alcuni li ascoltarono entrambi ma chi è più interessato ha uno stile più che argomento rispetto all'altro ne seguirà soltanto uno dei due ma io credo che alla fine si andrà così poi nulla vieta di ascoltarli entrambi ci sono tantissimi per esempio studenti di liceo che sono appassionatissimi a Filosofarsogood che quando ho detto che il podcast dell'Icogito sarebbe uscito ogni giorno alle 7 mi hanno detto mi salvi dal viaggio in autobus quindi cioè nel senso tutto dipende anche dalla necessità di fruizione di ognuno però non potevo metterli insieme perché ripeto sono proprio due cose che quando le senti cioè se tu senti l'episodio di oggi di Daily Cogito e lo confronti con uno qualsiasi degli episodi di Filosofarsogood non dico che sembrano due persone diverse però però sì cioè sono proprio due è come leggere da una parte un articolo scientifico in cui ti si parla di quel concetto in maniera approfondita dall'altra parte invece leggere un articolo di opinione in cui mischi serie televisive film gossip cose che in parte faccio anche in Filosofarsogood ma con uno stile totalmente diverso ottimo hai parlato poco fa di degli studenti che ti hanno mostrato il loro apprezzamento rispetto a questo progetto e allora io a parte questa cosa che se io penso a me da studente di liceo ma anche universitario in realtà facevo tutt'altro forché ascoltare una persona intelligente che mi dicesse cose intelligenti per cui o ero un pessimo adolescente io oppure tu hai trovato veramente quegli adolescenti speciali che ci sono che sicuramente ci sono qua in Italia e a questo punto la domanda è ma tu hai un'idea precisa della tua audience chi ti segue chi ti ascolta da chi è composta la tua community io una volta all'anno cerco di fare un po' una profilazione del mio pubblico per capire anche i cambiamenti perché poi cambiando io cambia anche inevitabilmente chi mi ascolta poniamo subito una cosa fondamentale la gran parte ancora oggi delle persone che mi seguono sono persone che prima di incontrarmi non avevano mai aperto un libro di filosofia o la conoscevano soltanto proprio perché l'avevano studiata al liceo eccetera eccetera e questo per me è un grande successo perché io ho come obiettivo quello di avvicinare alla lettura della filosofia persone che non l'hanno mai letto cioè a me interessa meno lo specialista che non il neofita totale quindi prima di tutto questo gran parte del mio pubblico è ancora costituito da persone che si sono avvicinate alla filosofia grazie al mio progetto e su questo vabbè le età sono fra le più disparate perché io ad alcuni miei raduni ho incontrato persone ragazzini di 13 anni che mi dicevano di aver cominciato a leggere Nietzsche dopo aver sentito la mia live o Kant a Roma a Roma incontrai una ragazzina di 12 anni che mi disse che aveva letto nell'ultimo anno Dostoyevsky e Kant e io le ho detto guarda che io a 12 anni giocavo con Super Mario cioè nel senso sei veramente molto più avanti di me a 35 anni gioca con Super Mario anch'io a 31 anni eccolo qua Super Mario Zelda quindi dicevo questo avvicinamento alla filosofia va bene tanto per gli adolescenti o i pre-adolescenti quanto per i settantenni ho persone di 65-70 anni che vengono ai miei seminari alle mie lezioni o ascoltano i miei video e mi dicono che hanno letto quello quello quell'altro senza che prima avessero mai aperto un libro di quel tipo quindi questo è forse ancora il più grande successo di cui posso vantarmi del mio progetto poi negli ultimi due anni si sono aggiunti tanti profili importanti professori universitari quindi ho tanti specialisti che mi seguono cosa che poi mi portò ad avere anche come ospiti alcuni professori sul canale e oggi a essere diventato direttore di Endox che è la rivista dell'università di Trieste quindi a fianco a questo pubblico casual di neofiti ho sempre avuto e cresce sempre di più un pubblico di specializzandi specialisti comunque che si occupano di filosofia in maniera un po' più approfondita come età l'età più forte che ho presente è quella fra i 18 e i 34 anni comunque quella è il bacino soprattutto nel segmento fra i 21 e i 26 quindi credo che il mio pubblico maggioritario sia di universitari questo sicuramente e la profilazione più forte però ce l'ho sicuramente grazie anche al mio Patreon perché lì poi vedo bene come è fatto il mio pubblico ho tantissime persone che sono professioniste che fanno professioni totalmente diverse rispetto alla filosofia alla cultura alla letteratura e che usano il mio canale come quel momento in cui una volta staccato dal lavoro una volta alla testa libera si dedicano esattamente a quello e quindi si ascoltano la live su Hume o su Lysander Spooner o si vanno ad approfondire il video in cui ho parlato di quel determinato libro eccetera eccetera quindi ci sono tantissime persone proprio che di filosofia neanche non si avvicinano se non attraverso quello che io propongo quindi è un pubblico principalmente composto da neofiti che però hanno cominciato appunto che oggi cominciano ad avere mi scrivono mail messaggi che mi dicono ah guarda che io ho letto questi libri che hai che hai che hai citato e quindi mi scrivono cosa ne pensano e questa è la creazione di una community proprio una comunità che ha quasi una biblioteca comune una biblioteca che è fatta dei libri che io di cui io ho parlato e questa è una bellissima cosa insomma fantastico io l'unica cosa su cui cioè l'unica magari saranno più di una ma una cosa su cui non ti darò soddisfazione sicuramente saranno i libri temo di non di non averne letti molti di quelli che tu proponi e di non averne letti molti in generale preferisco Super Mario in questo momento che è comunque grande cultura mi dispiace ma chi mi dice che Super Mario è minoritario rispetto a a a magari Kant no ecco lo spero è troppo grosso magari Kant ha avuto un po' più di influenza sulla nostra cultura però nel senso io sono un appassionatissimo videogiocatore quindi combatto strenuamente per il diritto di considerare il videogioco come genere letterario non c'è alcun dubbio grande visto che lo hai citato dai chiudiamo con questo argomento proprio velocissimi Patreon tu hai lanciato il tuo canale Patreon oltretutto anche con un successo mica da ridere nel senso che hai ottenuto degli ottimi risultati la domanda che ti faccio tanto per cominciare quindi tu fai questa cosa bruttissima e disdicevole che è volere guadagnare dal tuo lavoro devo confessare di sì lo faccio con un po' di vergogna lo faccio anche con un po' di timore delle conseguenze però ho deciso di farlo però hai deciso di farlo in ogni caso e dal momento in cui hai deciso di farlo e vabbè non tutti saranno d'accordo con te però te la diamo per buona hai fatto anche altre cose buone nella tua vita come mai hai scelto Patreon come strumento o meglio tra gli strumenti con cui puoi guadagnare del denaro e quindi pagare pagarti il tuo lavoro allora ho scelto Patreon dopo un lungo vaglio di modalità diciamo così io ho studiato varie piattaforme che permettevano crowdfunding una tantum o continuativo sono diventato patron di alcuni youtuber internazionali per guardare come gestivano il loro lavoro una volta capito come funzionava la piattaforma ho capito che dietro quella piattaforma c'è una struttura fenomenale Patreon è un sito fantastico sotto ogni punto di vista e quindi ho deciso di affidarmi a questa piattaforma che trovo tutt'oggi una delle cose più belle con cui io abbia lavorato sul web ho deciso di avviare il programma di crowdfunding proprio perché sapevo che di lì a un anno avrei desiderato avere la rivista e che fosse gratuita e il podcast io già quando ho aperto il Patreon pianificavo di aprire queste due cose quindi io penso sempre un po' a lungo termine ecco una delle cose che mi contraddistingue è la programmazione a medio-lungo termine che mi ha sempre dato grande soddisfazione e avevo bisogno di monetizzare cose che non avrei monetizzato fondamentalmente anche YouTube perché voglio dire chi oggi vuole guadagnare direttamente da YouTube è meglio che ci ripensi più che altro perché veramente YouTube ormai con le sponsorizzazioni con le ads porta gli spiccioli cioè io ve lo dico non ci sono i numeri del 2012 e non ci si tornerà mai più quindi voler guadagnare direttamente da YouTube diventa una chimera a meno che uno non abbia l'idea che proprio fai il botto che in sei mesi ti porta a fare milionate di visualizzazioni però non è proprio il caso e quindi mi ero accorto di una cosa che o diminuivo la produzione dei contenuti o facevo meno video perché mi portavano via molto tempo e non avrei quindi fatto i podcast eccetera eccetera oppure avrei dovuto monetizzare quello che facevo e la mia community da tempo mi spingeva a creare qualcosa che permettesse loro di portare un contributo così ho aperto Patreon l'ho aperto con con successo anche perché ci sono dei servizi che comunque la gente apprezza molto tipo il libro del mese io ogni mese spedisco un libro che io acquisto da Amazon a chi dona più di 35 dollari al mese con dedica e scheda di lettura oppure la videochiamata mensile io ogni mese faccio un'ora di videochiamata insieme ai miei mecenati anche quello è molto apprezzato adesso recentemente ho aggiunto il blog dei mecenati in cui ogni mecenate può scrivere degli articoli e quindi sfruttare anche la mia visibilità eccetera eccetera quindi c'è una serie di servigi che vengono molto apprezzati credo che il successo del Patreon dipenda però soprattutto dal fatto che ho sempre trattato il mio pubblico come persone adulte cioè nel senso non ho mai raccontato balle su quello che volevo fare non ho mai paventato qualcosa che non non era effettivamente e quindi diciamo così se fai un lavoro di qualità per un po' di tempo perché poi non è che puoi aprire il Patreon dopo tre mesi se costruisci una community e ti crei una credibilità agli occhi del tuo pubblico è il tuo pubblico che alla fine ti chiede guarda take my money and shut up come si suol dire in questi casi e Patreon mi dà sempre tanta soddisfazione perché c'è una community veramente viva sotto lì ci credono veramente producono loro stessi contenuti ed è bello è finora finora l'idea una delle idee che mi ha dato più soddisfazione di tutte questo al netto del fatto che qualsiasi progetto a pagamento che venga lanciato sul web verrà sempre preso di bersaglio da quelli che in realtà ti dicono che fare video podcast o cose del genere non è un lavoro e di solito a questi rispondo perché non ti metti a farlo cioè nel senso se porta a guadagnare senza che sia un lavoro forse dovresti metterti dovresti provarci solo per fargli cambiare idea insomma certo quindi tu dici che Patreon più che più che altro sia una conseguenza del lavoro che hai fatto più che una uno scopo diciamo così è più una cosa che arriva dopo in maniera quasi naturale almeno così è stato nel tuo caso ti ricordi prima che ho detto dei feedback ecco Patreon è stato il più grosso feedback del mio progetto e lo è tuttora nel senso io Patreon lo vivo come ovviamente lo vivo come ciò che mi permette di dedicare molto tempo perché se io non avessi Patreon oggi non solo dovrei fare un video ogni due settimane ma è questo perché dovrei dedicare il mio tempo ad altri tipi di attività consulenza d'azienda e tutte cose che ho fatto in passato che oggi grazie a Patreon non devo per forza fare quindi posso dedicarvi ad altro Patreon però è il mio feedback più trasparente perché con Patreon so effettivamente quello che funziona e quello che non funziona io quando ho aperto il programma Patreon l'ho aperto sapendo che se fosse fallito malissimamente forse avrei dovuto cominciare a fare un altro lavoro perché avrebbe significato che i due anni di lavoro precedente non avrebbero creato un'affiliazione così forte da parte della community invece ha funzionato e questo mi ha permesso di andare avanti e oggi è un punto di ripartenza perché grazie a Patreon posso permettermi di ampliare quello che faccio quindi è un feedback continuo costante e al tempo stesso una piattaforma di lancio per un sacco di altre cose quindi è veramente un mezzo straordinario se viene visto in questo modo perché poi se viene visto come se io apro ecco una cosa mi sento dirla perché negli ultimi mesi tanti hanno provato ad aprire Patreon con scarsissimo successo se io apro Patreon perché non ho alternative a Patreon non aprite Patreon cioè Patreon non è l'ultima spiaggia e non dovrà mai esserlo per nessun creatore di contenuti Patreon deve essere organico al proprio progetto deve entrare nel momento giusto e deve ricoprire il ruolo giusto questo è fondamentale da capire se io apro Patreon perché non so come altro monetizzare allora è meglio darsi ad altro quello sicuramente vivete Patreon come un modo per valutare il vostro impatto sulla community che avete creato e lì sarà utile sicuramente e allora guarda ti prendo in parola perché sta per essere lanciato anche il Patreon di Passione Podcast per cui vediamo se riuscirò a seguire le tue orme se riuscirò a fare un lavoro di qualità come quello che stai facendo tu e quindi anche a vederne il giusto riconoscimento beh in bocca al lupo per il Patreon poi mi raccomando mandami il link così ci do un'occhiata se ho un paio di consigli volentierissimo assolutamente lo farò adesso non lo non lo divulgo perché ancora è proprio in fase è già attivo ma lo sto ancora ultimando per cui per il momento lo teniamo lì ma sicuramente gli ascoltatori e le ascoltatrici saranno avvisati al più presto della sua uscita credo che mancano davvero giorni forse ore allora Passione Podcast Rick è nato perché io sbagliassi al posto degli ascoltatori ho fatto un macello di errori li ho raccontati in questo podcast alcuni sono serviti agli ascoltatori tutti sicuramente sono serviti a me per chiudere questa intervista ti chiedo se vuoi raccontarci un errore il più bello il più interessante il più utile che hai fatto al posto nostro beh guarda sicuramente come errore inerente il progetto di divulgazione che abbiamo raccontato oggi è sicuramente quello della rubrica quotidiana su youtube mi sono lanciato in quella rubrica con anima e corpo perché ero convinto mi ero convinto che su youtube pagasse solo la quotidianità e non la costanza e questo è stato il primo errore non è vero che bisogna essere quotidiani su youtube non è necessario basta però rispettare le scadenze che ci si dà però mi ero convinto di questa cosa e quindi ho cominciato a pubblicare un video al giorno con grandissimo entusiasmo i primi video erano scoppiettanti mi divertivo un sacco e poi a un certo punto la necessità della pubblicazione ha preso il sopravvento sulla volontà di pubblicare però non me ne sono accorto subito quindi sono andato avanti per due mesi circa a pubblicare video in qualche modo di controvoglia però senza ammettere a me stesso che era di controvoglia e di conseguenza i video erano anche di minor qualità cominciavano ad essere ridondanti ripetitivi curati un po' meno bene insomma non bene assolutamente niente di buono per quello che io vorrei fare e poi fortunatamente c'è stato un utente che me l'ha detto mi ha detto guarda ti seguo su tutte le altre rubriche mi fa però su evento non ti seguo perché non mi interessa e visto che era una persona molto legata al mio canale che commentava sempre ho detto sai cosa aspetta un attimo prova a prendere sul serio questa obiezione vado a riguardarmi i video mi sono riguardato i video e mi sono ricordato di quello che volevo fare io con youtube che era fare qualcosa che mi divertisse che mi desse qualcosa e quella rubrica non mi dava più la cosa divertente è che subito dopo aver troncato quella rubrica che ripeto era un fallimento perché io all'interno di quei video per esempio dico in alcuni video sì perché questa rubrica andrà avanti per 3000 puntate ci aspetta un'avventura incredibile poi tac tronchi così e la cosa divertente è che i video subito dopo mi sono preso una settimana di pausa di riflessione ho fatto una vacanza sono andato in giro un po' per l'Italia in una settimana sono tornato e i video che ho fatto dopo sono stati quelli di maggior successo nella storia del canale quindi questo significava che il fallimento riconoscere quel fallimento lì mi aveva dato delle idee per superarlo immediatamente ed è questa la cosa che che ho sempre cercato di trarre dai fallimenti dagli sbagli cioè guardarli e farmi dare le idee e le energie per superarli subito e non guardarli come oggetti inerti da mettere in una teca credo che sia uno dei uno dei tanti errori poi ripeto si potrebbe fare una chiacchierata di due ore e mezza solo sugli errori però questo è forse quello di youtube che mi ha portato maggiori spunti ecco e allora grazie per avercelo raccontato Rick grazie davvero e grazie per questa bella intervista che ci hai concesso è stato veramente un piacere ed è stato un onore grazie a te veramente è stato bello essere su Passione Podcast e insomma grazie veramente per il lavoro che stai facendo allora una piccola nota di servizio per più che gli ascoltatori e le ascoltatrici per gli spettatori di questa intervista quelli che la guarderanno su youtube come tu Riccardo sai in questo momento sto testando l'intervista live o meglio più che live non siamo in diretta ma la sto gestendo tutta in diretta sul momento con il software OBS di cui vi ho già parlato e per la prima volta non sto registrando solo me stesso ma sto registrando anche un'altra persona in questo caso Rick bene o male lo dico sia a voi che ve ne siete già accorti se siete arrivati fin qui che a te Rick l'intervista è andata bene dal punto di vista tecnico ci sono state due o tre problematiche durante questa oretta e qualcosa è partita la sigla verso metà dell'episodio a un certo punto e in un altro momento tu sei diventato piccolo 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 e ti ho dovuto riallargare niente di grave insomma credo che ce lo perdonerete siamo qua entrambi per sperimentare per provare queste cose anche un po' per raccontarvele per trasmettervele per cui sostanzialmente se ci state ascoltando in podcast andate a buttare un occhio su youtube giusto per vedere queste brutte facce che in questo momento sono proiettate sullo schermo e anche per vedere un po' come abbiamo gestito questa cosa tecnicamente perché potrebbe essere interessante per tutti dunque Rick dove ti troviamo raccontaci un po' dei tuoi riferimenti che poi metteremo bene nelle note dell'episodio beh ovviamente mi trovate con il mio canale youtube basta cercare Rick Dufer su youtube e vengono fuori ci sono circa 300 video fatti in tre anni e mezzo quindi insomma c'è un po' di materiale da recuperare ovviamente le due rubriche podcast che le trovate su spreaker itunes spotify e anche su youtube perché c'è il canale youtube daily cogito ho deciso di di mettere su youtube in un altro canale anche i podcast perché molti utenti me li chiedevano quindi alla fine a me non costava granché l'ho fatto dopodiché c'è il mio sito riccardo dal ferro punto com dove c'è l'aggiornamento di tutti gli eventi le conferenze le presentazioni i seminari che tengo un po' in giro per tutta Italia e sarà un ottunno molto caldo perché sarò in giro un po' dappertutto fino a Natale wow e basta poi social network ci sono tutti e poi se volete qualche mese fa è uscito il mio libro l'elogio dell'idiozia che è un saggio filosofico però che può essere letto anche da chi insomma di filosofia non sa molto perché si può leggere insomma non è la critica della ragion pura ecco fantastico allora davvero sappiamo dove venirti a prendere a questo punto so che detta così suona un po' male in ogni caso veramente Rick grazie 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 questa intervista so già che me la riascolterò due o tre volte perché è davvero ricca di spunti veramente grazie Rick tu non hai idea ovviamente di come si concludono gli episodi di Passione Podcast no no non lo so com'è che si concludono ok perché servirebbe anche il tuo aiuto nel farlo ma possiamo benissimo improvvisare tu sei un filosofo per cui immagino che non avrai grossi problemi nel trovare un senso a una frase sostanzialmente perché di questo che stiamo parlando sei d'accordo? sono d'accordissimo allora cari amici e care amiche di Passione Podcast grazie davvero per averci ascoltati fino a qui vi ringraziamo di cuore per la vostra presenza per quello che siete per quello che fate io sono Andrea Ciraulo con me c'è Riccardo Dal Ferro in arte Rick Dufer vi ringraziamo vi salutiamo vi abbracciamo fortissimo ma soprattutto vi ricordiamo che chi sa fare Rick sa anche nuotare e chi non sa fare non sa nuotare quindi affoga grazie mille Rick a presto ciao a tutti